Due vittorie consecutive per il volley soverato che anche nel turno infrasettimanale ha dato seguito alla vittoria di domenica scorsa in casa con Macerata, cogliendo l'intera posta in palio a Montecchio e domenica si torna al Palascopa per il big match di questa sesta giornata del campionato di Serie 2 Girona Est. Si affronta Marignano, noi con il direttore tecnico Antonio Valiengo commentiamo quindi innanzitutto questa bella vittoria infrasettimanale che ha dato seguito alla vittoria conquistata al tiebreak con Macerata. Quindi due vittorie consecutive, diciamo che il miglior viatico per presentarsi a questa sfida di domenica. Sì, concordo pienamente con la tua riflessione. A Montecchio è stata disputata una grossa partita sotto il profilo. Chiaramente i numeri, i risultati dei set sono eloquenti ma è molto 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 importante. È il gioco che è spesso dalle ragazze e la coralità che si è vista e che va bene a sperare per il prossimo futuro, per le prossime partite. La squadra è sicuramente in crescita. Domenica si affronta a Marignano, una delle squadre che è partita meglio in questo avvio di stagione. Quattro vittorie su quattro prima di osservare il turno di riposo mercoledì scorso. Sarà sicuramente una sfida vincente. Il Soverato però sta dimostrando nel corso di queste ultime settimane di avere una graduale crescita a dispetto ovviamente del roster ampiamente rinnovato e l'ingresso dell'americana che praticamente è con voi da poco più di due settimane. Sono osservazioni concrete, esatte. Il lavoro dello staff si sta vedendo in assoluto. La squadra è in crescita e chiaramente l'arrivo di Schiltz sicuramente ha equilibrato e ha ottimizzato il nostro roster. Per cui la fiducia è assoluta e nelle ragazze e nel lavoro di uno staff ormai consolidato che negli anni ha sempre dimostrato di ottenere ottimi risultati. Per cui è chiaro che la partita con Marignano è importante ma la affrontiamo con la massima fiducia e la massima serenità di poter far bene. Da conoscitore di questa categoria, oltre che addetto ai lavori, sono trascorse cinque giornate. Si prevedeva un campionato equilibrato alla vigilia, ne avevamo parlato anche noi nel corso della preparazione pre-campionato. Si sta dimostrando tale in entrambi i gironi? Sarà una battaglia tra virgolette ogni domenica? Concordo pienamente, anzi direi che i due gironi dimostrano ancora più equilibrio di quello che si era previsto. Al momento non c'è nessuna squadra che ammazzerà il campionato e quindi sarà un campionato vincente e noi contiamo di poterci inserire e fare il nostro meglio. È chiaro che i risposti definitivi saranno nella seconda parte dell'anno, chiaramente, però diciamo che i presupposti ci sono tutti per poter far bene. Infine presentiamo l'avversario di turno, Marignano, che domenica arriva alla Palascoppo, una squadra che ormai è una realtà di questo campionato, con alla guida tecnica Stefano Saia che ha fatto molto bene negli ultimi anni sulla panchina della compagine romagnola. Sarà una partita vincente, una squadra che è stata rinnovata rispetto all'ultimo anno per buona parte, ma che dai primi risultati ha dimostrato comunque di essere una squadra molto competitiva. Fermo pienamente la tua esposizione. Marignano è una realtà, negli ultimi anni è sempre stata ai vertici, l'altronde dell'anno scorso era la seconda in classifica all'interruzione, per cui non lo scopriamo, guidata da un tecnico che ha fatto bene. Sono rinnovati, non è la squadra dell'anno scorso, ma comunque i primi risultati delle prime partite hanno confermato la loro valenza, per cui sicuramente noi la rispettiamo, ma come dico sempre non temiamo nessuno e andremo in campo con la massima determinazione per onorare la nostra maglia, come sempre facciamo in tutte le partite. Denise Belli è sicuramente una delle protagoniste principali di questa doppia vittoria del Valle Soverato, prima in Casaltaiber con Macerata, poi nel turno infrasettimanale a Montecchio, un Soverato che ha dimostrato di dare segnali di crescita gradualmente dal punto di vista del gioco, oltre che dei risultati. Quindi è un aspetto importante questo in vista di una partita impegnativa come quella di domenica con Marignano. Sì, stiamo riuscendo a lavorare sicuramente meglio di come abbiamo iniziato e cerchiamo di fare sempre del nostro meglio a partire dall'allenamento in palestra. La partita contro San Giovanni e Marignano sarà sicuramente una partita difficile, però faremo del nostro meglio e cercheremo di fare quello che possiamo. Da poco più di due settimane si è aggregata al gruppo anche Shields che sicuramente si sta integrando bene, sta dando il suo grande apporto anche dal punto di vista del gioco, una freccia in più importante per il vostro arco perché sicuramente il Soverato sta dimostrando di poter avere ulteriori margini di crescita. Esattamente, è un tassello molto importante perché ci mancava un opposto titolare, un opposto di ruolo e quindi adesso siamo completi e cerchiamo di fare sempre quello che dobbiamo fare a partire dall'allenamento e quindi andiamo avanti. Sono trascorse cinque giornate di campionato, ancora siamo in avvio di stagione, ti sei fatta un po' comunque un'idea di quello che potrebbe essere questo campionato? Sicuramente in questo momento l'equilibrio la fa da padrone. È il mio primo campionato in questa categoria quindi non so quello che mi aspetta, mi hanno detto che è un campionato lungo, faticoso, comunque si ha bisogno di molta attenzione, molta concentrazione e testa quindi cerchiamo di mettercela tutta.